Siamo con Vincenzo Marino, padre di un bambino disabile, Antonio, che frequenta l'istituto di scuola materna Oberan. Ebbene a questo bambino è stata in principio negata la possibilità di far parte di una gita scolastica organizzata dalla scuola a causa della sua malattia. Dopodiché il padre ha esposto denuncia, anzi ha querelato l'istituto, ottenendo il risultato di avere un assistente sociale. Allora, questi assistenti li danno, non li danno? Come funziona? Noi siamo da quasi un anno aspettandoci, abbiamo solo l'insegnante di sostegno per il bambino e l'assistenza materiale non gliel'hanno mai affidata. Abbiamo fatto una documentazione dove mio figlio risulta che comunque ha bisogno di essere assistito. Questi assistenti sono assenti? Sì, assenti, il comune non lo so, non gli passa, non gli tocca, non la legge 104, insomma tutto un casino burocratico. Comunque mio figlio ha il pannolino, ha questo problema. Però appena lei ha esposto querela ha ottenuto un assistente sociale per lui? Io ho esposto querela, il giorno dopo mi ha chiamato il direttore facendo delle scuse, che Antonio oggi per questa giornata poteva recarsi in gita, però non è che domani mia moglie porta il bambino a scuola e se il bambino ha dei problemi lo cambiano. Solo per oggi è stato fatto quasi un'eccezione, un piacere. Cosa chiedete al governo locale? Maggiore assistenza per questi ragazzi che automaticamente crescendo hanno un futuro, un futuro migliore, sperando di poter risolvere. Io d'altronde essendo disoccupato cerco di lavorare, cerco di garantire il massimo delle cose al mio figlio. Sì, prendiamo la frequenza, l'assegno di frequenza, sono 250 euro al mese, ma penso che per bambini così, 250 euro, forse non concludiamo niente. Grazie.